Dopo quasi un anno dalla cessione dei beni delle Terme al Comune di Sciacca, quanti mesi occorreranno ancora per avere finalmente il bando? E' questo solo uno degli interrogativi contenuti in una lettera della CGL indirizzata dall'assessore regionale all'economia Gaetano Armao. Il segretario provinciale Massimo Raso, il segretario di zona di Sciacca Franco Colletti e quello della Filcams Franco Castronovo oggi ritengono necessario tornare su un tema rimasto in sospeso. Noi, chiariscono i sindacalisti, siamo tra quelli che non hanno mai nutrito grandi aspettative sulla possibilità che il Comune di Sciacca potesse far compiere all'intera questione passi in avanti significativi, tanto più che per mese abbiamo inseguito questa questione della consistenza dei beni. Ma adesso che questa partita si è chiusa e che il Comune ha consegnato il tutto, cosa si aspetta? E questo benedetto bando dovrà farlo il Comune o la Regione. Ma non si può andare avanti così. Quante altre stagioni intendiamo perdere? Insomma, il tono dei rappresentanti sindacali è accorato, anche perché è di tutta evidenza che occorra fare presto e che il giudizio della CGL è il miglior partner possibile, è quello che offra maggiori garanzie circa la capacità di gestione e l'occupabilità delle persone, questioni definite dalla CGL non secondarie, questioni per le quali si ritiene debbano essere inserite e sottolineate nel bando ai fini della qualificazione nella scelta. Raso Colletti e Castronovo confidano che l'assessore Armao faccia in tempi brevi la massima chiarezza sulle questioni poste. Questa città, dicono, attende da troppo tempo di vedere ripartire le terme e con esse quel di più di occupazione e sviluppo di cui abbiamo tanto bisogno. In effetti la questione terme si è bloccata. Nei mesi scorsi l'assessore regionale Gaetano Armao aveva sollecitato il Comune di Sciacca per la definizione della consistenza dei beni, lasciando intendere che a Palermo non aspettassero altro. La questione è poi risolta con la presentazione di una documentazione che i funzionari della regione hanno considerato addirittura eccessivamente precisa. Ma da quando la palla è tornata a Palermo tutto tace. Si attendono ancora notizie, infatti, di quel bando da pubblicare per la selezione di quel partner a cui far gestire beni dalle stufe di San Caloggio, dal Grandotelle, dal parco e le piscine. Confidiamo in un'accelerazione. Il professore Armao si è più volte dimostrato molto attento al problema. Per noi le terme sono il punto di partenza di ogni ipotesi di sviluppo. A parlare così il vice sindaco assessore al turismo Filippo Bellanca. Il sindaco Francesca Valenti intende chiedere un nuovo imminente incontro con l'assessore Armao. Ad oggi le ultime positive novità, risalenti però ormai allo scorso mese di maggio, sono ancora ferme all'inserimento nel complesso immobiliare di quelle stufe vaporose che inizialmente, per questioni catastali, non facevano parte del patrimonio termale da consegnare al Comune. Poi si pensava che il bando potesse essere scritto a sciacca, ma il nuovo governo regionale guidato da Nello Musumeci ha affermato ogni ipotesi del genere. Il bando lo facciamo noi, ma in collaborazione col Comune, ha precisato più volte Gaetano Armao.